I responsabili della funzione per quello che poi proprio faceva, insomma io vi garantisco a lunedì ci sono a fare queste macchine, chi viene andato è venuto, mi ha detto che adesso manda queste 6-7 macchine a Milano, era un giovedì pomeriggio, a tutti i costi, mentre era al telefono, comunque qua, il bus che forse protestava che non aveva queste macchine, vede entra il mio zio all'epoca, ho detto prima, è passato dalla Ferrari, arriva all'autotea da Romeo attraverso la Innocenti, aveva rivenditore dell'A40, insomma, la host, insomma, mentre era al telefono con qualcuno di Milano, lì, che protestava, c'era vede entrare la bisarca della Innocenti che consegnava, che consegnava, sai, tolto macchine, vai il camion verde, l'aerano, ma no, si va, si va, si sente, credo, con chi, insomma, tanto hanno fatto che hanno caricato le prime di zetta, credo, sulla bisarca delle Innocenti, hanno convinto l'autista, gli hanno dato qualcosa, andare giù a Milano. Passa fine settimana, lunedì mattina, tutti incassati, incassati quelli della Innocenti perché hanno usato il camion della, e quelli della Ferrari che sono visti arrivati, loro incassati, un camion verde con le tizetta, sono un disastro, un disastro, state dicendo che le prime, le prime di tizetta sono arrivati a Milano per il merito degli inglesi, di macchine inglesi, tra l'altro. Questo è stato proprio, poi dopo tutto non si è sistemato, si è fatta una macchina di là, però questa è stata proprio una bisarca, quella volta lì, per fortuna che c'è stata, è stato bisarca. Grazie a tutti. Grazie a tutti.